Ciao a tutti, sono Margutti Pietro, il nuovo schiacciatore dell'Atlantico del Pallavolo Brescia. Per me questo è il terzo anno in a due, nelle due passate stagioni con il Club Italia, da protagonista. Ora mi vedo il terzo, secondo schiacciatore, me la gioco con Riccardo Mazzoni, il mio compagno. Non vedo l'ora di iniziare, sono pronto per asfaltare alla prima giornata, il 24 settembre, qui al palazzetto di Brescia, San Filippo, contro i miei ex compagni del Club Italia. Sono molto contento di essere in squadra con due giocatori grandi come possono essere Cisola e Tiberti. Sicuramente posso imparare molto da loro, ma la cosa fondamentale che mi ripete anche sempre mio papà è divertirsi, perché senza il divertimento non si gioca a pallavolo. Quindi questa è una frase che mi è rimasta sicuramente in mente e che cerco di mettere tutta la mia buona volontà e la mia volontà di fare per raggiungere i miei obiettivi, come possono essere quelli di vincere un campionato. Quest'anno abbiamo tutte le carte in regola per farlo e non vediamo l'ora di iniziare, proprio per questo motivo riuscirò ad aggiungere, come già detto, i miei e i nostri obiettivi. Io ho iniziato a giocare a pallavolo all'età di 11 anni, prima ho provato tutti gli sport, ma nessuno mi era mai piaciuto tanto quanto la pallavolo. Mi sono appassionato più che altro perché a casa si parlava e si mangiava solo della pallavolo, a casa si guardava la pallavolo, al mare si giocava e si guardava la pallavolo. Quindi sono cresciuto da una madre che giocava in Serie B in A2 a Parma e poi dopo mio babbo che è stato un grandissimo giocatore della nazionale, non è entrato nella generazione dei fenomeni ma era presente in molte competizioni. Ricordiamo anche lo scudetto vinto nel Messeggero nel 1991, se non sbaglio, e da lui è nata questa passione, andandola a vedere giocare da piccolo mi ricordavo già qualcosa, poi comunque allenandosi sempre con la squadra di Ravenna mi sono sempre più avvicinato alla pallavolo ed è un ringraziamento a lui che mi ha fatto scoprire questo nuovo sport di cui mi sono innamorato e che ci gioco volenterosamente.